Che facciamo? Lo volete un pezzo veloce? Lo volete un pezzo veloce? Però c'è una condizione, abbiamo ruotato che quando l'abbiamo suonato in Germania la gente saltava Anche in Francia, in Svizzera, in Croazia Che facciamo? Vogliamo essere da meno? A casa nostra? Un pezzo proprio, no? Mister Andrea Miazzetto a Pateria Grazie a tutti 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 Grazie a tutti